Dove eravamo rimasti? Ah sì, giusto, ci vuole un'idea natalosa! Il più natalosa possibile! Insomma, come facciamo a pensare a un'idea natalosissima? Ehi, Natalino! Di me! Allora, ascoltate bene, potremo insegnare una coreografia a tutti i bambini del mondo! Oh, perfettissimo! Perfetto! Un'idea ballettosa! Allora, e cinque, sei, sette, otto! Na 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 Santa Claus is coming to die! Sì! 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 È stata bella! È stata storia di cosa! Sì! Ma! Ma! Non basta! Oh! Non basta! Ci vuole qualcosa, qualcosa di ancora più neloso! Nataloso! Grazie a tutti.